Siamo nel bellissimo scenario del Parco del Comune di Gorizia con il Sindaco Romoli, presentazione dei gusti del frontiera 2013, decennale davvero importante. Sì, è una prima presentazione, oggi abbiamo semplicemente dato alcuni elementi che poi ci approfondiremo in una successiva conferenza stampa, nella quale chiariremo tutte le novità di questa manifestazione che sta diventando sempre più importante nel panorama regionale e non solo. Quattro giorni, infatti quattro giorni dal 26 al 29 settembre, è segno di vitalità come ha segnato lei perché ci sono sempre più stende, sempre più richieste. Esatto, sono aumentate di ben 130 su 240, quindi del 25% diciamo, se non sbaglio i conti. Quindi è un segno di vitalità importante perché vuol dire che sempre maggiore interesse riscuote questa manifestazione. Noi cercheremo di essere all'altezza della situazione e fra breve sveleremo anche tutte le novità di quest'anno che sono notevolissime. Alcune novità chiaramente sono sempre più legate al mondo intermodale, cioè social network e dopo anche per un bel passo verso il volontariato, quindi far partecipare e coinvolgere i giovani. Ecco, i giovani abbiamo chiesto aiuto ai giovani perché si presentino come volontari e ci aiutino nella gestione di questa manifestazione. Questo è un aspetto. E secondo, ci rivolgeremo anche come pubblicità e come promozione della festa sempre di più all'uso dei social network che stanno dando dei risultati notevolissimi rispetto alla tradizionale pubblicità. Comunque non ci dimenticheremo né delle radio né della televisione. Ringraziamo il sindaco Romolo e un bocca al lupo loro per questa manifestazione. Grazie.